So che sei maliconica, non pretendo di sapere il perché, avevo intenzione di conservarlo per il gala di fidanzamento della settimana prossima, ma ho pensato che stasera, forse come somma dei sentimenti che provo per te, diamante, 56 carati per essere esatti, lo indossò Luigi sedicesimo, e lo chiamarono le coeur de la mer, il cuore dell'oceano, già, è prodigioso, beh, è da reali, e noi siamo reali, Ros, sai, non c'è nulla che io non posso darti, non c'è nulla che io ti negherei, se tu non negassi me, oh, aprimi il tuo cuore, Ros.